Musica Presidente Confindustria a Lombardia, oggi qui a Santa Margherita Ligure dove YLab guarda al futuro e lo fa insieme a un territorio. Ma è un'iniziativa molto importante perché ritengo che sia un'iniziativa di attualità, nuova e soprattutto è uno strumento per dare l'opportunità ai giovani di creare il proprio futuro, di darsi un obiettivo e mi auguro anche di contribuire a ridurre la disoccupazione giovanile che è la vera piaga del nostro paese. Nel suo intervento lei ha detto noi dalla Lombardia possiamo anche essere d'aiuto alla Liguria. La Lombardia rappresenta il 23% di tutte le start up italiane, oggi le start up non sono più una nicchia, rappresentano una realtà, in Italia esprimono circa 2 miliardi di fatturate dando lavoro a 50.000 persone, quindi è una realtà che va seguita e va aiutata. Noi in Lombardia stiamo cercando di dare un servizio, di aiutare a mettere in fila le idee, di internazionalizzare le start up e di trovare soprattutto le risorse. Anche l'Europa ha messo nelle priorità l'attenzione alle start up, noi con l'Europa stiamo dialogando proprio perché vogliamo essere il ponte fra le start up e Bruxelles. E quindi siamo aperti a supportare le aziende, non solo quelle della Lombardia ma quelle insediate su tutto il territorio. Io sono convinto che le start up sono uno strumento oggi per diffondere anche una nuova cultura di impresa, per far avvicinare i giovani all'impresa, per creare le condizioni perché le imprese continuano a crescere e a svilupparsi. Visto che abbiamo a disposizione molte nuove tecnologie, abbiamo la velocità dell'informazione, oggi è importante dare lo spazio che merita alle start up. L'altro aspetto importante è non solo far iniziare le start up ma aiutarle a crescere e a consolidarsi nel tempo perché purtroppo vediamo che molti partono e poi si fermano lungo la strada. Quindi dobbiamo anche creare le condizioni e gli strumenti perché queste start up possono consolidarsi e crescere. Qual è il compito dell'istituzione in tutto questo? L'istituzione deve mettere nelle condizioni i giovani di essere facilitati nella creazione di queste start up e soprattutto messi nelle condizioni di poter agire tranquillamente sempre nel rispetto delle regole. L'istituzione deve mettere nelle condizioni per le condizioni che partecipare le condizioni di poter agire le condizioni di poter agire la strada.